ciao lisa l'ho trovato praticamente sono venuta qui per vendere i vestitini che non andavano più a sara ci sono un sacco di vestiti e giocattoli bellissimi hanno tanta attrezzatura e un rapporto qualità prezzo fantastico non diresti mai che è un negozio dell'usato poi ho fatto la card per monitorare i miei articoli in vendita e così posso anche accedere allo shop online e alle promozioni la prossima volta ti porto devi proprio vederlo ciao